Pensava fosse un ragazzo normale con cui trascorrere qualche momento insieme ed invece una bella serata si è trasformata in un incubo. È una storia terribile quella ricostruita dai carabinieri della stazione di Borgo Giannotti guidati dal maresciallo Zingale avvenuta lo scorso inverno. Una ragazza lucchese di 22 anni è stata violentata da un uomo conosciuto in un locale di Porcari. Secondo quanto ricostruito dai militari che hanno investigato con la collaborazione dell'ASL2 nell'ambito del Codice Rosa, i due si erano conosciuti la sera stessa. Dopo qualche minuto trascorso insieme sono usciti e si sono appartati nell'auto di lui. Poi il ragazzo ha acceso la vettura spostandosi in una stradina di campagna. La ragazza ha cominciato a insospettirsi e ha chiesto di tornare indietro ma il giovane l'ha picchiata con schiaffi e pugni e minacciandola di morte la costretta ad un rapporto sessuale completo. Dunque l'ha riaccompagnata del locale ed è fuggito. Dopo il ricovero in ospedale e la denuncia della ragazza i carabinieri hanno avviato le indagini difficilissime perché gli unici elementi a disposizione erano il modello dell'auto e la descrizione del volto della Guzzino. Dopo aver analizzato i dati di oltre 5.000 vetture registrate alla motorizzazione i carabinieri sono arrivati al presunto stupratore che la ragazza ha riconosciuto in foto. Anche il test del dna effettuato grazie ad un campione acquisito dai carabinieri è risultato positivo e così il giovane un 26enne lucchese vm le iniziali è stato indagato per violenza sessuale. Un ragazzo normale dicono gli investigatori senza alcun precedente che adesso rischia da 5 a 10 anni di carcere.